Perché rischiare di utilizzare una cartuccia sconosciuta nella tua stampante HP quando puoi avere una cartuccia Xerox che costa meno dell'OEM ed è migliore rispetto a qualsiasi altra cartuccia sul mercato? Garantito! La cartuccia Xerox è micro-ingegnerizzata per la qualità dell'immagine, la facilità di utilizzo e l'affidabilità, e non danneggerà la tua stampante come le cartucce di marche a basso prezzo. Non c'è nulla di migliore, più sicuro e vantaggioso in termini di costo. Una cartuccia Xerox costa il 25% in meno rispetto all'originale, fornisce una media resa di stampa del 10% superiore ed è dotata di una garanzia Xerox a vita. Non troverai tutto ciò in nessun'altra cartuccia sul mercato. I toner Xerox per HP, Brother, Lexmark, Chiocera ed altri brand. Un'alternativa di alta qualità ha il risparmio che ti permette di ottenere la massima produttività dalla tua stampante. Tutto ciò si somma a un netto risparmio per la tua azienda senza causarti preoccupazioni. Ottimo per te e per il tuo business.